Arrivati a Vallo Scalo col treno, le strade sono finite se non si dispone di un veicolo proprio. E questa è la sorpresa che si sono trovata di fronte, contro cui hanno dovuto sbattere col muso gli ignari passeggeri giunti alla stazione ferroviaria di Vallo Scalo dopo le 8.50 di queste ultime mattine. Il servizio sostitutivo in autobus per raggiungere la città di Vallo presenta un buco per una buona parte della mattinata, sino alle 10.50. Se si dovesse avere la sorte di giungere a Vallo Scalo intorno alle 9.30, quando vi sono dei convogli in arrivo e in partenza, si rimane bloccati ad ammirare un paesaggio brullo della ferrovia e dello svincolo Vallo Scalo della superstrada, per giunta chiuso anche questo verso nord fino a Dominiano Scalo per lavori in corso. Altri buchi di entità più lieve per la verità vi sono anche durante la giornata, ma vuoi mettere il paesaggio mattutino di Vallo Scalo tra le 9 e le 11? Tutta un'altra cosa, no fondi, no parti. Questa è la razza che ha portato ad una revisione drastica del servizio sostitutivo verso Vallo della Lucania che viene fatto pagare nel biglietto ferroviario se non si precisa bene la destinazione al momento dell'acquisto. Qualcosa che ha dello sconcertante se si pensa alla Cirentana bloccata in almeno due punti tra Agropoli e Vallo, se si considerano le peripezie che si devono affrontare sui convogli ferroviari regionali, sporchi e malandati? I pendolari, come sempre, ringraziano per la brillante idea di logistica applicata.